Ciao a tutti ragazzi e ragazze, stavo dando una sistemata qui in our styling room quando mi è balzata in mente un'idea, anzi una challenge che volevo assolutamente realizzare. Non so se capita anche a voi di uscire la mattina e rientrare all'orario di cena oppure mangiare qualcosa al volo e non avere neanche il tempo di guardare nell'armadio. Quindi ecco, la challenge si basterà proprio su questo, ma prima vi presento i due ospiti di oggi, Luca Cobelli e Roberto Magro. Ciao ragazzi, ciao a tutti, bacione. Come vi sembra questa stanza? Molto, 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 molto bella, veramente affascinante. Devo dire molto affascinante, molto bella, molto bella, poi vabbè lì le fai di House of Talent. Perché altro colpisce, sai cosa? Il bilanciamento dei colori, c'è la parte fluo, molto bella, complimenti, ottimo lavoro. Fatti stringere la mano, fatti stringere la mano, due baci, perfetto. Allora, la challenge di oggi è questa. Ovviamente avete la maglietta di House of Talent. La meravigliosa maglietta di House of Talent. La meravigliosa. Non sottovalutare questa maglietta. Ok. I jeans e le sneakers, giusto? Giusto. Allora, avrete 15 minuti a disposizione per rendere questo look adatto ad un primo appuntamento di sera. Ma è una sfida? Mi metti contro di Robby veramente? Devo vincere così facile? Ma veramente? Però, potete cambiare soltanto la maglietta e magari aggiungere qualche accessorio per abbellire il tutto. Ho già detto, di sera o di giorno? Di sera. Segnati questa, Giorgio, segnati questa. Vincerà Roberto. Sì, sicuro. Disse con lui che è col pantaloncino corto. Siete carichi, siete pronti? Siamo carichissimi. Perfetto. Sono pronto per vincere. Dai, dai. Quindi ragazzi, possiamo partire con questa sfida epica in our style room. Bene, pronti, talenti, via. Vai. Ok. Intanto vi faccio un po' di domande. Vai, vai. Io aspetto le tue domande. Dite un po' il vostro rapporto con la moda. Rapporto con la moda? Dipende dai giorni. Se mi sveglio bene, mi vesto bene. Se mi sveglio male, mi vesto, come posso dire? Apro l'armadio, prendo i vestiti, li lancio presenti, tipo come nei film. Allora, la mia esperienza nella moda, se mi vesto, cioè se mi alzo bene, mi vesto bene. Eh, se mi alzo male, mi vesto bene lo stesso, tanto. Perfetto. Dai, mica sono come Roberto Magro. Te che rapporto hai con la moda? Parlarci un po' te, che rapporto hai con la moda? Beh, io ci vivo ogni giorno con la moda, praticamente. Devo essere sempre visto bene in ogni evenienza, capito? Giorgio, ti posso chiedere un consiglio? Gli occhiali da sole, gli occhiali da sole. Eh, no, io non posso aiutare nessuno. No, veramente? Come dovete fare voi? Mi dispiace. Hanno bene questi. Aspetta, però! Io ci sono. Occhiali da sole di sera. Aspetta, no, ma cosa è? Ma si diceva? Però sì, ha lo stesso stile. Aspetta un attimo. Porta di nuovo. Eh, scusami, ho i miei tempi. Perché se devo fare... 15 minuti, è accessorio. Vedi, uno bravo, come me, è già scegli, l'ha già messi qua, mica come te che stai lì, riprovi, la taglia. Eh, devo guardare... Questa che taglia è? Te la vedi? Non c'è più a dire. No, questo è molto meglio. Perfetto, perfetto. Ok. Trovate un chiede. Pensate di vincere? Penso di vincere, sono sicuro di vincere. Sono sicuro di vincere. Chiaramente. Ok, possiamo andare... Secondo te chi vince? Secondo te chi vince? Guardandoci in faccia. Questo decideranno i fan, io non posso dire nulla. Eh, con l'hashtag our style room, poi loro decideranno un sondaggio... Dacci il prognastico. Non posso dirlo. Non può, non può. Non si sfone oltre. Eh, dai, dai. Non può. Non può. No, ragazzi, stop al tempo, la challenge è finita. Adesso andate a provare questi outfit e noi ci vediamo tra poco. Perfetto. Bene, ragazzi, nel frattempo che dei ospiti si stanno cambiando, vi racconto un po' i miei trucchetti, i miei consigli per come vestirsi in appuntamento da sera, in un primo appuntamento. Allora, prima di tutto bisogna tenere conto della comodità, ma non bisogna essere comunque troppo casual, perché comunque rischiate di indossare scarpe troppo scomode oppure di indossare vestiti troppo appariscenti. Inoltre bisogna tenere conto della sobrietà, perché comunque non bisogna strafare. Inoltre, se vi piace indossare la vostra maglietta con il vostro manga preferito oppure del vostro videogame preferito, indossatela, perché indossare una camicia bianca vi renderà troppo finti. E niente, questi erano i miei consigli. Fatemi sapere che cosa ne pensate con l'hashtag OurStyleRoom. Molto bene, gli ospiti sono ritornati e ora dite un po' la motivazione di questo cambio di look. Dai Robin, inizia a perdere, inizia a perdere. Inizia a perdere, inizia a perdere. Inizia a perdere. Io ho scelto sta camicetta. Alzi per la vedere, dai. Io ho scelto sta camicetta. Vai a vedere a tutto il pubblico quanto fa schifo sta camicetta. Molto sobria, non è vero? È bellissima, vero Giorgio? Vero, vero. E che c'è queste immaginine che mi piacciono molto. E poi ho scelto questi occhiali neri che si abbinano con le immaginine della camicetta. Poi ho la forma molto bella e quindi l'ho messa per questo. Va bene, ora tocca a te Luca. Speraci che la ragazza ci sta. Allora io ho scelto, dato che ho un pantalone lungo chiaro, ho scelto un giubbottino chiaro con una maglia bianca che riprende le scarpe e il rosso che fa da contrasto. Poi vabbè è un occhiale che... Il rosso cosa c'entra? Fa contrasto. Fa contrasto, un colore in più. Ho queste scarpe oggi, non è che le posso buttare via. Sì, vabbè. Si, però non è di gas. Mai non lo so. Dai, dai. E gli occhiali? Allora, gli occhiali invece sono... È un tocco in più. Mi piaceva gli occhiali, gli ho messi come i tuoi fan schifo. Adesso per lì, guarda, mi hanno sì e poi no. Vabbè, ma io lo sto ascoltando, hai capito? Dai, sì, dai. Comunque devo dire che avete creato due Luca al Vero unici, ma molto fatti da replicare a casa e che io comunque ovviamente proverò. In effetti che non ha un... C'è un giubbottino di jeans a casa. Ancora che parli, ancora che parli. Oh, Roby, sei perdente, basta. Roby, Roby, davvero. Sei perdente. Tutta questa convinzione a me non piace. Ancora, sei perdente. Perché, ragazzi? Io non vi chiedo di votare, ma vi chiedo di essere onesti e di votare il migliore. Chiaramente sono io. Non c'è l'unico, però siete onesti veramente. Non chiedi di votare in sé, in tanti di ci sono io. Dai, decideranno loro. Deciderete voi. Chi è che votate? Chi è che votate? Ragazzi, è basilare. Bene, ragazzi. Se questa puntata vi è piaciuta, condivideteci con l'hashtag OurCloset e OurStyleRoom. Vado a farmi un selfie ora. Per onorare. Vado a farmi un selfie. Ma va che camicetta? Cioè, va che camicetta? Come faccio a non farmi un selfie? Come faccio a non farmi un selfie? Con questa camicetta. Ma dovete al mare? Vado a farmi un selfie. Lascia stare, lascia stare. E vabbè, mi hanno lasciato da solo. Ma noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. E il mio talento ci farà brillare Come i commenti in questo cielo astrale